Ciao amici di MyFootballJersy, oggi torniamo in NBA e vedremo insieme la maglia di Memphis Grizzly in edizione City Edition nella versione Swingman. La maglia Memphis Grizzly City Edition Swingman 2021-2022 unisce elementi di molteplici divise da sempre legate alla storia della squadra. La maglia color navi con dettagli in oro e bianco incarna la grinta e il gran lavoro del basket. I dettagli si ispirano all'epoca di Vancouver e all'amata maglia City Edition della squadra per rendere omaggio alla musica Soul di Memphis. Un elegante motivo bianco e una banda gialla arricchiscono i bordi del collo e del giro maniche. La stampa del nome della squadra e numero 12 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. La targhetta cucita e aggiornata, lo swoosh ispirato al diamante e il logo NBA sono dettagli speciali per commemorare il 75esimo anniversario dell'NBA. Cosa ne pensate della maglia? Secondo me è molto bella. Di quelle dell'NBA che ho visto una delle più belle e nella mia classifica personalissima prende 5 stelle. Qui in alto trovate il prezzo, come vedete molto molto vantaggioso. Per una maglia peraltro fatta benissimo con tutte le patch giuste, con i colori otteccati, questa lavorazione molto bella, molto elegante. Non vedo l'ora di poterla sfoggiare con i miei amici. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e che la spedizione peraltro è anche una spedizione molto veloce. Questa maglia è arrivata in 20 giorni. Dall'ordine alla consegna sono passati 20 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi guardate fino alla fine, però mi raccomando prima di lasciarci mettete un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Swingman.